buongiorno e benvenuti in questa puntata di pillole di efficienza oggi parleremo di peso corporeo tema assai spinoso anzi direi peso corporeo vs composizione corporea cosa cambia innanzitutto cos'è il peso corporeo il peso corporeo è cosa pesa la bilancia io ho una scatola la metto su una bilancia questa bilancia mi dice che questa scatola pesa x x x kg in realtà non mi dice cosa c'è dentro ci potrebbe essere delle banane dei libri di marchi ingegni dei ventilatori dei computer quant'altro la composizione corporea o meglio lo studio della composizione corporea mi dice oltre a quanto pesa quella scatola cosa c'è dentro quella scatola se quella scatola è fatta di banane di kiwi di personal computer di ventilatori di mattoni di sabbia o quant'altro quindi già il fatto che io dico solo peso corporeo non dice nulla io potrei avere due persone che pesano tutte e due 60 kg ma che a vederle esteticamente sono due si dice fenotipi completamente diversi l'uno muscoloso senza un filo di grasso l'altro con pochissimi muscoli tanto grasso il che da luogo a due funzionamenti organici completamente diversi il primo ottimale e secondo sicuramente in disfunzione il che da luogo poi a problematiche di salute completamente diverse nel quel caso queste arrivino ovvio che la prima situazione quella con tanto muscolo e poco grasso corporeo è la più corretta ed è anche la più ambita e desiderata ma non necessariamente è quella che aveva indicare un peso corporeo minore questo è l'errore più grave che facciamo in assoluto quello di pensare che peso corporeo basso equivalga a poco grasso corporeo e tanta massa muscolare ovvero l'immagine che la gran parte di noi nutre nei confronti di quello che è lo stereotipo ideale che questa società proietta nelle nostre menti ovvero il magro o la magra in in un modello fit slim come vogliamo chiedere se così vogliamo chiamarlo cioè bello da vedere perché noi consideriamo che il fenotipo slim quello magro con muscoli senza grasso sia bello da vedere in alcune altre società non è così ma se anche volessimo accettare che sia bello da vedere la mia domanda è ma perché a quel bello da vedere dobbiamo attribuirci una caratteristica di poco peso corporeo qui si apre il vaso di pandora perché perché il grasso corporeo il peso corporeo hanno densità completamente diverse tra di loro uno scatolone pieno di muscoli rispetto ad uno stesso scatolone pieno di grasso peserà molto ma molto ma molto di più ed è qui che casca l'asino nel senso che ciò che ci trae in inganno è che non viene presa in considerazione la densità ovvero quanto pesa quell elemento in funzione del volume che va a coprire quindi non è si possono trovare persone assolutamente con poco grasso corporeo in un aspetto che potremmo definire slim ma che pesano molto molto di più della stessa di una persona che magari ha la stessa età con un corpo completamente diverso magari con abbondanza di grasso e pochissimo e pochissimo muscolo dobbiamo stare molto attenti a questo a questo processo perché trae in inganno molte persone induce spesso anche fobie o condizionamenti sociali condizionamenti psicologici che portano e tante volte a dei disastri dal punto di vista di quelle che sono poi le azioni che molte persone vanno a intraprendere nel tentativo di scendere di peso corporeo inconsapevole del fatto che nella stragrande maggioranza dei casi quel scendere di peso corporeo porta alla perdita di massa muscolare e non di massa grassa con la conseguenza che spesso queste persone sono contente si gongolano del risultato ottenuto perché tanto possono andare nel matrimonio con il vestito super figo appena acquistato ignare del fatto che hanno combinato un disastro metabolico perché poi nel tempo il corpo presenterà il conto di quella massa muscolare persa conto che sarà rappresentato da una discesa metabolica un minore consumo energetico giornaliero con conseguenze sull'accumulo di grasso che ne verrà piuttosto che nella stanchezza e perda di energia e di un sistema immunitario che viene a scemare quindi stiamo molto attenti al concetto di peso corporeo ho inserito altri video relativi a questo argomento nel mio canale è un argomento molto scottante mi rendo conto che ci sono realtà nelle quali l'utilizzo del peso corporeo viene addirittura utilizzato come schippecchetto della lodole per proporre metodiche, pratiche e quant'altro necessarie a farti superare la prova costume nell'arco di 4-5 settimane queste sono un danno sociale queste sono attività che andrebbero condannate e proibite le istituzioni dovrebbero proibire messaggi ingannevoli dovrebbero far cultura fin dalla scuola su cos'è la composizione corporea in funzione del peso corporeo in funzione di quello che è la nostra statura il nostro fenotipo, la nostra altezza e quant'altro quindi tornando al principio con il quale ho aperto la puntata il peso corporeo non li identifica come è fatto una persona identifica quanto pesa la persona ciò che noi vediamo allo specchio e ciò che noi vorremmo vedere allo specchio come rappresentanza di un fenotipo corretto tanto gradito a quelli che sono i canoni sociali di questo momento in questa società non è l'equivalente di un peso corporeo basso ma bensì di una composizione corporea ottimale fatta di poco grasso soprattutto poco grasso infiammatorio una buona massa muscolare una buona struttura ossea e soprattutto una postura corretta alla prossima puntata grazie a tutti